Il torneo è ex giocatore ATP, a mio avviso se non me sta facendo la differenza in questo torneo e ha giocato molto bene, il suo compagno ha iniziato non benissimo ma poi è cresciuto insieme a lui e hanno agevolmente vinto la partita Come sta andando Mario? Tu sei un po' fuori quota però Hai detto bene Fuori quota non so se è bene o male Ah ecco appunto, come sta andando? Beh adesso va benino, se volete bene il mio compagno mi sta iniziando a supportare da parte prima di me un po' così si è ripreso la grande Dopo questo io volevo chiedere proprio al compagno perché ho visto prima quando sbagliavi che faceva dei movimenti un po' strani Si commentava lì fuori, capito? E' molto ansioso però Lo tieni? Si si lo tengo Il maestro Dinnella riuscirà a tenere a bada l'estroverso compagno e a supportarlo così bene al punto da contribuire da par suo alla vittoria conquistata su Colaluca e Dello Russo al termine di una partita risoltasi molto meno rapidamente di quanto possa lasciare intendere il risultato di 6-2 e 6-1 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!